Cosa? Quando facciamo due o tre ci scambiamo così... No, no, non c'è pezzo. 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 No, non c'è pezzo. No, non c'è pezzo. Io non ho fatto ingegneria. Oh, scusa. Vabbè, non è che chi vuole fare ingegneria per capire quello che ha detto. Ah, senti il male. Vedi, per certo, già non ho fatto ingegneria, non capisci, però è un tanto... Dai, facciamo la foto. Ok, dai. Facciamo la foto. Dai, anche dopo... No, vengo... Credo che devo andare... Dai, va bene. A portare a casa il pane. Allora.